Questi sono i valli, ricordi di Laghitania? Hai presente che c'erano Laghitania? Queste case, dopo che siete andati via, queste case l'hanno fatte nuove, che non ci avviciniamo. E da chi è questa casa? Sono tutti proprietari dove ha vissuto il suo padre. Noi eravamo contadini, come si chiamavano? Come empleati? No, chiaro, empleati. Osea, il duegno dove stavano voi, è anche il duegno? E quella altra sopra, non sono queste qui. La casa dove abitavano loro è più avanti, queste le hanno costruite dopo che sono andati via loro. No, no, un pochettino più avanti. Perché tutte queste cose facevano domanda, che tale proprietà aveva bisogno di un'altra casa colorita. E sono state fatte, tutte queste case e case, sono state fatte con i soldi dell'estate. Con il linea dell'estate, si. Però poi, che cosa succedeva? Chi veniva a congiullare? Come si faceva? Ci vogliono 100 milioni per fare le tazze, no? Ma chi veniva a congiullare? Ecco perché certe nazioni sono perdute. Se invece mettere gemendo o mettere calce o mettere a costruire veramente...